la festa dell'unità, ma il guizzo alternativo è veloce. Ci sono gli stand che ospitano una bella mostra di produzioni artistiche e così Giovepluvio resta sconfitto. Con il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Fulvio Colucci, a parlare di museo, università e città vecchia, il sindacalista Giancarlo Turi, Gianni Liviano, assessore regionale al turismo, per Lance, l'architetto Paolo Campagna, che ricorda le tante parole al vento sulla città vecchia, che continua a sprofondare sulle proprie macerie, mentre imprenditori raffinati culturalmente, come Arcangelo Sant'Amato, mostra i fatti e gli investimenti già realizzati dal punto di vista della ricettività alberghiera, ma anche dal punto di vista della fruibilità culturale. E ancora Roberto Falcone, che rappresentato il presidente Luigi Sportelli, ha parlato dell'iniziativa dell'Agenzia dello Sviluppo per mettere assieme tutti gli interlocutori economici del territorio. Sergio Scarcia ha ricordato gli sforzi anche delle passate legislature comunali per sconfiggere la lentocrazia e l'inefficacia amministrativa. Dunque, città vecchia, museo e università, uno snodo assolutamente strategico per lo sviluppo di Taranto. L'onorevole Michele Pelillo, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Spesso c'è poca attenzione su quello che sta accadendo e stanno accadendo cose importanti e cose positive. Il museo finalmente è stato completato, c'è un altro grande cantiere vicino al museo che sarà un complemento del museo stesso, l'ex carcere di Sant'Antonio, un'opera che restituirà alla città un pezzo di città degradata. Abbiamo il museo di Taranto inserito nei primi 20 musei d'Italia, avremo a novembre uno di questi nuovi 20 manager che cercheranno di dare impulso finalmente e valorizzare il museo di Taranto. Ecco, questo è soltanto un esempio del presente, del presente che faticosamente abbiamo costruito negli anni scorsi e che oggi è il nostro presente e l'attualità. Allora, grande capacità dovremmo avere tutti quanti di essere molto concentrati su quello che sta accadendo per ottimizzare i risultati, per cercare di non sprecare queste grandi opportunità e nel contempo avere la forza, la lungimiranza di continuare a ragionare e a lavorare sui progetti che hanno bisogno ancora di uno spazio di tempo più lungo. Ha portato il suo contributo al dibattito il sottosegretario di Stato alla scuola e all'università Angela Donghia. Io dico che abbiamo troppi tavoli, troppe concertazioni, troppe riunioni e poche scadenze. I tavoli servono, serve per mettere insieme le persone, servono i convegni, ma bisogna avere ormai in mente delle scadenze certe perché il paese non può più aspettare. Termina così questa edizione della Festa dell'Unità, la soddisfazione del segretario provinciale Musillo. Sono stati quattro giorni straordinari, il partito si è mobilitato, devo fare dei ringraziamenti soprattutto al segretario organizzativo Aldo Fuggetti, ma a tutti i militanti, i giovani democratici e tanti di noi che come al solito hanno dato il cuore a questo evento importante per il Partito Democratico.